Wabalaba dab dab e bentornati, sono Mammazzo, bentornati nella rubrica film in uscita. Oggi voglio parlare con voi di Freaks Out, un film italiano di Gabriele Mainetti, già regista di, lo chiamavano, Jig. Uscito il 28 ottobre al cinema, che ho visto solo in questi giorni, scusate il ritardo, vorrei comunque parlarne con voi perché è un film che attendevo parecchio e che non mi ha lasciato assolutamente deluso, mi ha soddisfatto pienamente. Andiamo a vedere perché. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che sono dei freak e commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film e di questo video. Vi ricordo anche che potete seguirmi sugli altri miei social, se aprite la descrizione li trovate qua tutti come link cliccabili tra cui Instagram e Twitch, che sono quelli che sto cercando di spammare di più. Allora, Freaks Out, film del 2021, diretto appunto da Gabriele Mainetti, con protagonisti Claudio Santamaria, già protagonista di Lo chiamavano Gig, anche con Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto, Aurora Giovinazzo, che è la, diciamo, la protagonista assoluta di questo film, Giancarlo Martini, che è il quarto dei freaks che completano il cerchio. Questi freaks sono capitanati da Giorgio Tirabassi, che è una sorta di imbonitore del circo, diciamo che è il loro mentore, il loro maestro, la loro guida. Abbiamo anche Max Mazzotta in una parte, che dirò nella parte spoiler, per non dire troppo. E infine abbiamo Franz Rogowski, che è un attore tedesco, che fa appunto la parte del villain. La produzione è italiana, ma è anche belga, ci tengo a dirlo, ma ci tengo a dirlo perché appunto, essendo un film italiano un po' particolare per i nostri standard, non vorrei gridare al capolavoro senza dire che c'è anche una coproduzione del Belgio. Perché dico che è un film strano per l'Italia? Perché finalmente, da pochi anni a questa parte, grazie anche a questi registi, si è cominciato a fare dei film che vanno oltre il cinepanettone, che vanno comunque oltre il film super impegnato, che si prende troppo sul serio, ma che riescono a trovare quel giusto equilibrio tra film di qualità a livello di trama, ma che sa essere anche commerciale, sa essere anche di intrattenimento, soprattutto sa essere anche sci-fi, fantascienza, fantasy, come non si faceva più da tanto tempo. Però in passato anche noi avevamo le nostre gioie, vi ricordo che comunque noi abbiamo avuto Fantagirò, che adesso non l'ho riguardato, magari se lo riguardo adesso è una merda, però comunque è stato attrascinato l'Italia, i telespettatori italiani anni fa. Quindi comunque noi sapevamo già fare le opere fantasy, e poi a un certo punto, anche se Fantagirò era per la televisione, poi a un certo punto ce ne siamo dimenticati, abbiamo visto che ci costava molto meno fare delle merde, fare della merda fondamentalmente all'occhi del cuore, perché si incassava uguale, e tutti hanno smesso di pensare all'arte. Tutti, tranne i Manetti Bros, che usciranno con Diabolica a fine anno, e con Gabriele Mainetti, che appunto con Gigrobo ha rilanciato un po' questo genere, o forse lanciato per la prima volta, perché chiamiamolo genere supereroistico italiano, che onestamente noi non abbiamo supereroi italiani, abbiamo degli eroi a fumetti, ma non sono supereroi. Se parlo di mainstream, ovviamente, poi se vado a pescare nelle produzioni indipendenti, sicuramente c'è di tutto. Perché ho detto supereroi? Se il titolo è Freaks Out e parla di fenomeni da baraccone che scappano dalla seconda guerra mondiale, quindi dai nazisti, perché fondamentalmente questo film sfrutta un concetto assolutamente non nuovo, per carità, ma che può essere nuovo a un italiano medio che non mastica fumetti, che non va a vedere film inglesi, perché ne conosco di persone che non guardano film americani, guardano solo film italiani, solo film comici, realistici. Una persona del genere può affacciarsi a questo mondo e esserne comunque affascinato. Per una persona, invece, nerd non è comunque nulla di nuovo, ma è comunque bello vedere questa trasposizione italiana di personaggi che abbiamo già visto nell'immaginario collettivo, ma che abbiamo fatto nostri. Il concetto di rendere il diverso un supereroe, proprio perché è diverso dalla massa, dalla maggioranza che appunto non ha particolarità, è un concetto a me molto caro, ed è per questo che io adoro tremendamente gli X-Men, ho adorato i film degli anni 2000, ho adorato il soft reboot che poi si è collegato con i giorni di un futuro passato, ho adorato i fumetti che ho letto per parecchi anni, adesso un po' li ho mollati perché poi si diventano anche un po' complicati, diciamo, gli X-Men a mio gusto, ma gli X-Men di Claremont, di Morrison li ho adorati tantissimo. Il concetto di emarginati, che hanno anche dei superpoteri, è stato ripreso anche da Misfits, dalla serie tv inglese sfortunata, perché comunque è partita con un grande successo per poi avere un continuo cambio di cast che ha portato comunque la qualità a calare. E lo vediamo sancito perfettamente in questo film, dove appunto si attribuisce a un freak un superpotere, come se ciò che li rende diversi, ciò che li rende temuti dalla folla, dalla gente, è anche quello che li rende speciali, e in un certo senso quello che li potrebbe rendere dei supereroi alla fine della pellicola. I protagonisti sono i seguenti, ce li hanno proprio presentati con un numero da circo iniziale, che ha elegantemente spiegato i loro poteri senza spiegoni assurdi che non sono mai stati dati durante tutto il film, ed è un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo film. Ci viene presentato Cencio, che appunto è Pietro Castellitto, che è un albino che ha il potere di controllare gli insetti. Ti può venire quasi il dubbio che li produca lui, ma in realtà si vede che si capisce durante la pellicola che li controlla. Poi ecco, lui è l'unico che si presenta quando vede i nazisti, si presenta anche con i suoi poteri, quindi non abbiamo dubbi. Dopodiché vediamo Mario, che nel circo fa diciamo il clown, ma ha anche il potere, ha tre poteri Mario, uno è che appunto, vabbè, un potere è che è effetto da nanismo, comunque è molto basso, lo chiamano il nano, anche se non so se è davvero un nano, ma è molto basso, e fa appunto il clown da circo, tutto simpatico, non credo sia del tutto finito, però è un bambinone cresciuto, che è stato picchiato tantissimo dal padre, come lui stesso ha ammesso durante la pellicola, e ha il potere di attrarre i metalli. Vediamo proprio che con un escamotage comico, nel numero da circo, si spoglia a torso nudo, per dimostrare che sulla sua pelle nuda, riesce ad attrarre i metalli, quindi diciamo è un magnete umano. Poi c'è Matilda, che è una giovane ginnasta, se vogliamo, che entra con un numero di ginnastica artistica dal calandosi, dal tendone del circo, sappiamo che ha un potere elettrico, lei riesce a, riesce, lei dà la scossa a qualunque cosa tocchi, quindi riesce a illuminare le lampadine, e non sa perfettamente la portata dei suoi poteri, infatti è quella che avrà il percorso di crescita maggiore durante la pellicola e che avrà il potere più potente di tutti i freak protagonisti. Il suo personaggio ricorda in un certo verso Rogue degli X-Men, proprio perché con questo suo potere non può toccare nessuno senza creare dei danni alle persone, può dare, cioè dà loro la scossa anche involontariamente, e per questo motivo rischia davvero di farti secco se ti dà troppa corrente elettrica. Questo ricorda sia Rogue, che assorbe i poteri, assorbe l'energia vitale delle persone, ricorda anche molto, se siete fan di Angel, se mi seguite perché parlo dei fumetti di Buffy e Angel, Gwen Raiden, la ragazza elettrica, che ha lo stesso identico potere, la stessa identica maledizione di non poter toccare nessuno. E infine abbiamo Fulvio, che appunto è Claudio Santamaria, che è fondamentalmente quello che si può descrivere come un uomo lupo, comunque è un uomo affetto da progeria, quindi è estremamente ricoperto di peli in tutto il corpo, un fenomeno che comunque esiste, può succedere, e proprio le persone nella storia che avevano questa condizione venivano assunte nei circhi. Lui appunto si nota durante la pellicola che oltre ad avere questa pelura è anche una forza sovraumana e anche dei sensi sviluppati, quindi diciamo è molto più vicino al suo lato bestiale, al di là dei peli. Il personaggio di Cencio invece è allo stesso modo, è visto dagli altri come una persona sporca, una persona che non si lava, proprio perché comunque riesce a gestire tutti gli insetti, gli spuntano ad ogni dove, quindi viene visto come una persona molto sporca, però si vede fin dall'inizio che c'è questo rapporto di odio-amore tra lui e Matilde. È bello vedere questa love story come viene sviluppata ed è anche bello vedere come Matilde sia fondamentalmente la protagonista del film, un po' bambina, perché fa delle cose proprio bambinesche, come salire su un camion di ebrei neanche per salvare Israel, ma vuole proprio raggiungerlo e stare con lui, cioè è al di là del bene e del male, non si rende conto di quello che fa proprio per il suo bisogno di stare con quello che lei vede come un padre. Quindi è molto bambina, ma col tempo cresce e a livello di potenza è lei l'eroina del film, è lei la persona coraggiosa. Ed è bello vedere come in questa love story la controparte maschile non sia del gruppo dei freaks quello più coraggioso, ma anzi sia quello più spaventato, quello più quasi comico. L'elemento comedy di questa pellicola che non è mai forzato, non siamo come nei film Marvel post-Civil War, sono ben dosate le battute e allentano davvero la tensione. Sono date sia da Mario, che comunque è proprio un pacioccone e fa ridere perché è così, sia da questi momenti di altalenanza di Cencio che passa dall'essere un super gradasso a essere un cagassotto in due secondinetti. Quindi, diciamo, il principe azzurro di Matilde non è un eroe senza macchia, senza paura, ma è il più cagassotto di tutti e questo gender swapping è fantastico in un film tra l'altro ambientato negli anni 40. Mi è piaciuto davvero tanto questa cosa che hanno ideato tra questi due personaggi. Va da sé che a livello di aspetto fisico Fulvio è quello che vive peggio la sua condizione proprio perché non può girare liberamente tra la gente e che si sente a casa solo al circo per non essere visto come un mostro mentre tutti gli altri, bene o male, riescono a girare quasi indisturbati, dico quasi perché comunque Cencio è anche affetto da albinismo, appunto come ho detto prima Mario è affetto da nanismo e tutti questi tre fantastici elementi agli occhi della società perfetta ariana che vogliono istituire i nazisti sono tutti carne da macello quindi se un gruppo di nazisti li trova per strada rischia di fucilarli o peggio, di mandarli in un campo di lavoro o in un campo di morte. Gli unici che potrebbero girare in giro indisturbati sono appunto Matilde e Israel che è il personaggio di Tirabassi che è il loro mentore che ha questo potere non ben definito non si capisce se è un potere di trasformare la materia crea un biscotto dall'acqua o se semplicemente è molto bravo nei giochi di prestidigitazione di conseguenza riesce a dare l'illusione di avere un potere. Non c'è dato a saperlo c'è dato a sapere solo che è il più anziano del gruppo è ebreo e ha intenzione proprio perché è ebreo di scappare dalla guerra di andare in America purtroppo in questa impresa viene catturato e i nostri freaks dovranno appunto cercare di innanzitutto cercarlo e poi magari perché no riuscire a salvarlo. Una cosa che non avevo capito molto bene dal trailer e che mi ha piacevolmente stupito durante la visione è che anche il villain è un freak non è semplicemente un nazista mi ha ricordato molto il teschio rosso in un certo senso perché è comunque è fedele all'idologia nazista lui si sente inadeguato soffre il rifiuto dal popolo nazista proprio per la sua condizione vuole stupirli vuole essere accettato in ogni modo da questa società perfetta che lo ripudia un po' come il teschio rosso che è fedele all'ideologia ma siccome è sfigurato in volto è stato diciamo allontanato anche dal Führer proprio per questo motivo il nostro Franz è stato allontanato in un circo in Italia perché ha sei dita per ogni mano è stato diciamo istruito all'arte del piano quindi suona in modo impeccabile il pianoforte grazie alle sue dita in più ma allo stesso tempo non è motivo di vanto per la società perfetta ariana e quindi è stato allontanato non è mai andato in guerra perché proprio alla visita medica militare queste sue dita in più non lo hanno reso idoneo e lui questa condizione la soffre tantissimo lui vorrebbe stupire il Führer e oltre al suo potere di avere un dito in più per ogni mano ha anche questo strano potere non ben precisato di vedere il futuro vedere il futuro se si droga di etere chiaramente nessuno gli crede perché non è non è chiaro se quello che vede siano delle allucinazioni o realmente il futuro solo noi spettatori sappiamo che è reale perché vediamo dei suoi disegni che riesce a intravedere un joypad di una console riesce a vedere uno smartphone riesce a vedere il cinema riesce a vedere un sacco di cose che non sono state create addirittura le canzoni che lui compone non sono altro che canzoni che vengono dal futuro suona fantasticamente una versione di Creep all'inizio che è azzeccatissima per questa pellicola e suona sempre col pianoforte una versione orchestrale di Sweet Child of Mine dei Guns'n Roses questo anacronismo in una pellicola ambientata ai tempi della seconda guerra mondiale mi ha ricordato molto Jojo Rabbit anche se qui essendo una musica suonata all'interno della trama non mi viene il termine tecnico è molto strana ma è giustificata dal potere di vedere il futuro di questo Franz quindi piccola nota a margine la colonna sonora sia in generale sia i pezzi originali sia la composizione che accompagna tutta la pellicola è davvero un valore aggiunto a questo film che non ha nulla da invidiare ai film di oltreoceano avete presente quando si dice per essere un film italiano è davvero un bel film ecco in questo caso non c'è neanche bisogno di dire per essere un film italiano questo è un gran bel film punto se devo trovare dei difetti magari nella parte finale la battaglia è un po' incasinata non è molto chiara magari avrei fatto meno scene un po' più chiare però è comunque insindacabilmente un'opera di alto livello che spero di vedere riprodotta ancora in futuro anche se ho sentito dire che non sta incassando quanto sperato e quindi questo potrebbe spingere le major a non puntare più su film di questo livello peccato non volevo dirlo subito all'inizio adesso che il filmato è andato un po' avanti posso fare un po' un po' più spoiler liberamente mi è piaciuta molto anche la parte centrale in cui ci sono questi partigiani o se mi passate il termine politicamente scorretto paratigiani poi scrivetemi qua sotto se avete capito perché paralimpici paratigiani che sono i diavoli storti tutti diciamo com'è il termine di guerra tutti mutilati di guerra che hanno composto una banda di partigiani e vanno ovviamente a fare i bastardi senza gloria ad ammazzare i nazisti a parte che questo film ti dà una gioia immensa nel vedere quanto ammazzano brutalmente i nazisti non credo di essermi mai divertito così tanto a vedere i nazisti morti e ammazzati come in questo film nemmeno in bastardi senza gloria mi piace molto che appunto ad ammazzarli siano tutti questi freaks perché appunto è come se fosse il nemico naturale del nazista il diverso e mi è piaciuto tantissimo il fatto che anche questa squadra di partigiani siano tutti fondamentalmente dei disabili li lega a doppio filo a questi freaks perché sono tutti visti come diversi dalla società notiamo che c'è anche un ex nazista tra le loro file il guercio e possiamo intuire dal finale del film che può essere che il gobbo il capo di questi partigiani i diavoli storti quando vede una persona mutilata la risparmia e la prende tra le fila lo intuiamo perché vediamo un nazista che ha perso una mano la stessa mano che manca anche al gobbo il gobbo invece di ammazzarlo a sangue freddo un po' perché ha avuto un'esperienza di ha conosciuto Matilde è diventato magari un po' più tenero lo risparmia dice ai diavoli storti tiratelo su e probabilmente lo arruolano come hanno arruolato il guercio per ammazzare i nazisti la parte centrale dei partigiani allunga parecchio il film che è di 2 ore e 20 però lo arricchisce anche perché senza quella parte centrale magari il film sarebbe stato anche fin troppo veloce fin troppo corto nel susseguirsi degli eventi questo intramezzo con questi nuovi personaggi perché sono un sacco di personaggi tutti interessanti non c'è un personaggio che non è caratterizzato tutti i personaggi sono caratterizzati benissimo e questo ti aiuta a distinguerli e a apprezzare meglio la pellicola anche a empatizzare di più per i personaggi è stato un lavoro di creazione dei personaggi davvero fantastico e questa parte centrale appunto che allunga il film ma la arricchisce anche non ci rinuncerei per nulla al mondo devo dire che dato che c'è stata questa parte centrale avrei quasi preferito che nella parte finale i partigiani i diavoli storti avessero avuto un ruolo non dico più centrale perché sono stati molto centrali ma magari qualche inquadratura di rilievo in più parlando di questo mi viene anche in mente un altro difettuccio della pellicola ci sono un paio di scene tra cui l'arrivo dei partigiani alla fine l'arrivo dei diavoli storti dove si è fermato il treno che sono un po' così no sense così de botto senza senso tipo perché il treno si ferma possiamo intuire che i freak abbiano fermato il macchinista ma non lo vediamo semplicemente il treno si ferma oppure si ferma perché è stato ordinato da da franz nel finale ma se fosse stato ordinato da franz nessun freak si domanda perché si è fermato il treno semplicemente si limitano a far uscire gli ebrei vabbè è un po' strano un'altra cosa c'è la scena quando matilde arriva al circus a berlin è già arrivata lì non ci fanno vedere semplicemente nella scena prima era coi partigiani nella scena dopo era a a zircus e per qualche motivo c'è questo wolf questo generale nazista che la insegue perché non può stare lì ma come perché non può stare lì se gli altri freak erano lì belli belli a chiedere di essere assunti non poteva essere anche lei un freak dato che ci sono anche delle ballerine comunque delle belle ragazze non è che sono tutti mostri non è che se uno non è un mostro non può star lì quindi è un'altra scena un po' strana per carità va bene sono tutti tutte cose che chiudo un occhio perché per carità nel complesso generale il film è davvero ben riuscito questa pellicola ha il doppio valore di non avermi fatto provare nessun rimorso per vedere un nazista ammazzato come ho detto prima ma allo stesso tempo per riuscire quasi ad empatizzare per questo Franz che è un nazista rifiutato dalla sua stessa gente proprio perché è diverso perché è deforme e di come nonostante tutto lui si senta deriso si senta rifiutato dalla sua gente nella scena finale quando scivola nella pipì della tigre viene deriso da tutti i vari dal pubblico nazista che era lì è davvero umiliante vederlo così mi ha fatto male però vediamo subito come non è che per questo cambi sponda non è che per questo si vendichi dei nazisti no lui piuttosto per essere accettato alla fine quando si rende conto di avere ragione per la scena successiva quando Matilde esplora davvero i suoi poteri a pieno potenziale e fa saltare le luci del circo si rende conto che aveva ragione e per questo vuole attuare il suo piano cioè il piano di avere questi freak dalla sua parte per poter vincere la guerra perché lui vedendo il futuro sa che la guerra è stata persa dalla Germania e così uccide il suo stesso fratello gli ruba la divisa l'alta uniforme delle SS e si taglia le dita per poter infilare i guanti e non essere più deforme agli occhi della appunto dell'ideologia nazista per poi andare appunto a catturare questi freak che nel frattempo erano scappati e il suo piano è appunto di gestirli contro i suoi nemici tanti dicono che questo personaggio non era interessante come lo zingaro di di gigrobo d'acciaio ma in realtà io l'ho trovato davvero davvero interessante forse anche di più ha un è davvero simile allo zingaro se ci pensate perché entrambi sono persone particolari persone strane in un certo senso inseriti in una certa in un certo contesto ma non accettate da quel contesto lo zingaro è un capo un capetto di una banda ma è comunque preso in giro dalle altre bande e questa cosa lo rende lo fa sentire inferiore e gli fa covare un sentimento di vendetta di rabbia che poi esploderà alla fine del film la stessa cosa è per franza quindi ci ho trovato molte analogie con lo zingaro di gigrobo e l'ho trovato allo stesso modo interessante forse l'unica cosa che ce lo rende un po' più lontano rispetto allo zingaro è che parla quasi per tutto il tempo tedesco dice davvero poche frasi in italiano ma io l'ho trovato un elemento di diciamo verosimiglianza importante proprio per contrastare un po' questa parte fantascientifica dei superpoteri bene fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film se non siete andati a vederlo vi consiglio caldamente di andare a vederlo e di andare a vederlo al più presto perché probabilmente tra un po' lo toglieranno insomma è fuori dal 28 ottobre ragazzi quindi correte a vedere Freaks Out che merita davvero tanto sono due ore e venti ma volano volano non fatevi intimorire dalla durata non fatevi intimorire dal fatto che è italiano andatelo a vedere ne rimarrete davvero soddisfatti io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video ah dimenticavo Mario il terzo superpotere che non ho detto che appunto è affetto da nanismo attrae i metalli e a un cazzo così a un cazzo così